Questo mi dedico a tutti voi, si chiama The Power of Flow e sarà nel mio prossimo disco che uscirà a marzo mi metto gli occhiali perché gli occhiali tondi? perché gli occhiali tondi ce ne avevano due miei idoli dico purtroppo avevano un italiano, Lucio Dalla e un inglese, John Lennon scusate se ho detto niente va bene questo qui è per voi vai grazie a tutti 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 grazie a tutti